La normativa EC2205 prevede una serie di verifiche costruttive, in particolare qui possiamo vedere le linee di copertura previste per la protezione e gli angoli di visibilità laterale 105 gradi per lato. Oltre agli angoli di visibilità laterali devono essere verificati anche gli angoli di visibilità superiore e inferiore, 7 gradi verso l'alto e 45 verso il basso. Una volta posizionato il casco sulla testa di prova appropriata si possono tracciare e determinare i punti di impatto previsti dallo standard che sono il frontale, i laterali, il retro e il top. Se integrale anche il mento deve essere collaudato. Grazie per la visione! Grazie per la visione!